Ciao, ciao, come va? Vlog di fine luglio, vlog di fine luglio 2022. Spero sia tutto bene dalle vostre parti, fa caldo, lo so. Io sono appena tornato da... appena, insomma, da una settimana sono tornato da 20 giorni in Friuli, sotto i boschi, all'altezza del monte Zoncolan, quelle parti là. Lo sapete, no? Io ho il terzo anno che vado in quella zona. Quest'anno siamo andati ancora un po' più su, un po' più verso l'Austria. Che vita, che vita! Forse mettono qualcosa nell'acqua, non lo so. Mettono un po' di qualche sostanza che ti... uno piace o nell'acqua. Perché quando stai là, almeno io quando sto là, mi sento a casa, mi passano tutti i pensieri, mi passano tutti i mali. Esco la mattina a correre in mezzo al bosco e in cinque minuti divento amico di tutti. Non lo so, probabilmente è la realizzazione di quello che vorrei fare e che non posso fare in questo momento, però nello scorso siamo stati, negli anni precedenti siamo stati una settimana, poi 15 giorni, quest'anno 20, prossimo anno tre mesi, prossimo anno tre mesi, maggio, giugno, luglio. Non sento discorsi, non voglio chiacchiere, se non vi va bene lasciatemi là. Perché la mente non è rivolta a voi, è rivolta in generale al mondo, no? Ma no, no, davvero, a parte gli scherzi lo posso fare. Penso che lo faremo. Poi per me è stata un'estate davvero bella, per il momento, perché è un'estate che è iniziata a fine maggio e adesso siamo a luglio, a fine luglio, e ancora c'è tutto agosto, come ai tempi delle scuole. Vi ricordate quando la scuola all'estate durava tre mesi, no? E per me sta andando allo stesso modo e sono contento perché la realizzazione di un'idea che era venuta fuori durante il covid, perché tutti un po' in quel periodo abbiamo detto dopo il lockdown appena riapre tutto, vado a lavorare fuori, basta star chiusi, basta stare in città, ma tanti l'hanno fatto veramente e io piano piano sto cercando di farlo, sto forzando la mano per farlo. Chiaramente servono dei contesti familiari che vi permettono di farlo. Io per fortuna e per sfortuna ce l'ho, per fortuna perché ovviamente non avendo figli uno si sposta, siamo in due, le spese sono più basse, non devi dire nulla a nessuno, fai come ti pare. Per sfortuna perché appunto non avendo figli fai come ti pare e non è detto che il fare come ti pare sia sempre la cosa più che tu desideri fare, insomma, no? Non aver nessuno a cui rendere conto, sì e no. No, sono discorsi da vecchi. Oggi vi voglio parlare di tre cose fondamentalmente brevi, due, una un po' più lunga. La prima sono delle facca alla marea, perché bello il video con la prima build così un po' improvvisata, a settembre poi finalmente farò tutto, me la toglierò dalle scatole così potremo iniziare a ragionare sul prossimo modello. No, no, ma a parte gli scherzi, sono contento che vi è piaciuto, è venuta fuori anche un'altra collaborazione per fare la manopola, una personalizzata, poi probabilmente a settembre vi farò vedere tutto, quando sarà pronta ci stiamo lavorando e mi è venuta fuori un'idea l'altro giorno mentre camminavo e ho visto un manifesto del circo delle mie parti, ho visto un manifesto del circo fatto in un certo modo e ho detto, ma quanto sarebbe fico fare una confezione della marea così? e ci ho in testa un po' di idee, devo contattare un amico, sentire se lui mi può mettere in contatto con una persona e lì provare a fare una confezione, una, come si dice, una sovrascatola, no? Per vendere la marea, non lo so, solo un'idea, devo rendermi anche un po' conto di quanto costa farlo. Però voglio rispondere a queste facca brevemente, poi vi voglio parlare un attimo del pacco che è un arrivo dal Giappone, ho in realtà paura, perché alla fine ho ordinato questo pacco dal Giappone che come vi ho detto va avanti da mesi ordinando su, io sto usando ByE, il servizio di Proxy alla fine perché volevo vedere come funzionava, anche avendo un contatto là che poteva spedirmi qualcosa, insomma però ho deciso alla fine di usare questi Proxy perché voglio vedere come funziona, voglio vedere quanto mi arriva di dogana quanto costa, ci devo sbattere la testa. Però il fatto è che ci sto esagerando con gli ordini perché poi tutte le mattine mi metto là e cerco di qua, cerco di là, aggiungi un euro, aggiungi due euro sono finito che volevo comprare 3-4 giochi per prova, quelli proprio più strani, impossibili da trovare qua per Saturn e alla fine ho tre joystick in arrivo, le pistole, il Virtua Stick e i controlli analogici poi mi sono fatto prendere la mano perché ho preso roba junk che si può un po' riparare, un po' sistemare quindi vai a sapere in che condizioni arriva e poi i giochi sono arrivati a una quindicina e mi devo fermare perché adesso che devo fare il consolidamento del pacco mi arriva una sassata di spedizione, mi arriva una sassata di spedizione sono pronto a pagare una sassata di spedizione sperando che la dogana sia adesso che hanno riaperto le spedizioni via nave, via aria, che sia bassa, non lo so, ho paura devo farlo e vabbè, andrà come andrà anche se spenderò un po' di più di quanto avrei speso qua, se non altro mi sono divertito perché è vero che ci sono anche qua a Roma dei negozi che vendono roba di retro gaming e hanno anche dei prezzi onesti, eh, voglio dire, per avere il negozio poi vai là, ci fai la chiacchierata è sempre bello e i prezzi sono onesti, ripeto, valgono quello che vendono, ecco però ti perdi tutto il gusto, cioè io pago al prezzo che trovo online al peggior prezzo che trovo online, diciamo però non ho il gusto di fare la ricerca, aspettare che arrivi, andarla a prendere poi e arrivare a aprire il pacco, vedere com'è la sera a giocarci, no? sono tutta, è tutto il contorno che, che rischia a me piace quindi andare in negozio, comprarlo e tornare a casa è bello, è bello perché è un po' la realizzazione di un'idea che avevi da piccolo, almeno io, no? quando penso, quando sono grande, che ho tanti soldi, vado e mi compro il gioco che voglio ed è divertente farlo anche lì, se avete un bambino, un nipotino, un figlio, qualcuno che soddisfazione è se siete appassionati un po' di gaming così andate insieme a lui a Natale, andate in un negozio e vi comprate e comprate quello che vuole, la console e 5 giochi via, spendi quanto devi spendere va bene, iniziamo con la marea, dai, sono 3 argomenti ah no, il terzo argomento non ve l'ho ancora detto vedete qui, questo è un XPS 13 Plus la fine del mondo e io questo mese ho comprato 6 laptop vi dirò quale terrò alla fine, perché poi quattro mi sono già venduti, uno probabilmente partirà e uno resterà con me iniziamo, marea, fuck prima domanda, ricorrente, quanto costerà la marea? non lo so, non lo so abbiamo fatto una call l'altro giorno con Mattia, per aggiornarci che non ci sentivamo da un po' e abbiamo un po' deciso i pacchettini con cui sarà offerta e abbiamo un'idea, probabilmente definitiva però finché non mi metterò là e metterò dentro la scatola tutto quanto e deciderò, ok, la vendiamo a questo prezzo non vi dirò nulla poi, può essere configurata il layout italiano? sì, il layout lo fate voi questa è una domanda soprattutto che arriva da chi non è un esperto che magari ha guardato il video con un occhio sì, un occhio no e poi mi hanno scritto ma si può fare italiano? ti prego falla italiana la fate come volete la fate come volete e al momento di mettere gli switch decidete voi il layout tutto là io l'ho fatta nel video che l'ho fatto l'altra volta è ibrida, mista cioè italiana con il tasto di invio diverso così perché mi va? è retroilluminata? no cioè la retroilluminazione, i led sono sotto quindi fanno un effetto alone però attenzione perché per come è stata pensata adesso per come l'ho fatta io non si vedono i led perché sono tappati dal bordino poi una volta che voi l'avete in mano potete fare quello che vi pare i led sono sotto, sono RGB possono fare gli effettini possono fare gli effettini glow può essere come vi pare semplicemente una luce d'ambiente come la usa Mattia una luce d'ambiente gialla o bianca serale però i tasti sopra non c'è un led sotto al singolo tasto per il momento ce n'è uno solo sotto il caps lock che vi segnala caps lock e cose varie quindi per il momento no ci penseremo un futuro insomma la retroilluminazione non è secondo me molto importante e poi ci saranno degli sconti o dei privilegi per i patron sì questa è una cosa che mi sono dimenticato di dire maledizione me l'ha scritto un ragazzo l'altro giorno i patron sapranno prezzi e disponibilità una settimana prima insomma lo dirò prima loro e se lo lavorano la potranno prendere prima di rendere tutto pubblico perché mi supportano da due anni sono due anni che questi ragazzi mi danno qualche soldo ogni mese e al di là delle rice su linux di queste cose qua le audiocassette le podcassette che facevo un tempo qui ho quella di run is it tra l'altro nel cielo eh no si vede maledizione così vabbè vabbè le podcassette vi ricordate i portachiavi fa un sacco di roba che facevo ai tempi avranno anche possibilità di aver di saperlo prima lo dirò prima loro 100% e poi ultima domanda ma è compatibile con Mac? anche là certo il firmware è compatibile con tutto anche perché te la puoi programmare come ti pare puoi invertire tasti far quello che ti pare però anche lì pensiamo che al momento dell'ordine quando ci sarà da compilare il form per dire come la vuoi là se tu mi dici io la voglio usare su Mac io ti configuro già il firmware per Mac cioè con control, command quella roba là punto e basta adesso ad agosto devo fare mi porterò al mare il poggiapolzi per provare a rivestirlo e vi aggiungerò un po' su questo e vi aggiungerò anche su quella cosa del pomello fatto personalizzato da un ragazzo e vabbè chiudiamo il discorso marea dai voglio dire voglio dire ora non riuscirò mai a farlo render bene con l'autofocus infatti verrà un delirio vabbè lasciamo perdere questo è un XPS 13 Plus di gran lunga il portatile è più bello che mi è mai capitato tra le mani ho avuto quando l'ho visto lo stesso stupore del MacBook da 12 perché sembra un MacBook da 12 vi ricordate quella bellezza là però è un po' più spesso è più solido ha queste forme vedete che sembra un prototipo di un'auto da corsa con queste forme che vanno in qua in qua tagliato poi la versione grafite è un io pensavo cioè la bella la più bella è bianca sicuramente però anche questa guardate che è perché è un grigio è un grigio canna di fucile leggermente lavagna leggermente non lo so poi con queste linee vedete il touchpad che non ha il contorno la tastiera è di gran lunga il portatile più bello sulle quali ho mai messo le mani poi ci puoi mettere il Linux supporta nativamente Ubuntu 2204 con la certificazione il primo laptop a farlo è una meraviglia e questo l'ho comprato l'ho comprato adesso vi spiegherò tutto la recensione la farò sul modello bianco però che mi è arrivato ieri lo devo ancora prendere questa macchina è strepitosa la venderò però la venderò perché è troppo per me non ho bisogno di una macchina del genere e questa poi è molto 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 estrema dal punto di vista hardware perché è fatta per spingere è fatta per dare il massimo a livello proprio di struttura di ventole di heat pipe questo non è l'XPS 13 di quest'anno l'XPS 13 di quest'anno è stato aggiornato sul modello dell'anno scorso e costa molto meno questa è proprio una versione plus è una versione diversa immagino che Dell il prossimo anno farà anche un 15 plus con questo concetto di design con questo touchpad con quella touchbar sopra quei tasti a sfioramento che tra l'altro c'erano anche e l'ho tirato fuori proprio per farvi rivedere c'erano anche qua ora questa è senza batteria non la posso accendere ma vedete qua ci sono dei tasti a sfioramento che tutti si illuminano non è la prima volta che Dell fa sta roba è chiaro qui c'è un'implementazione diversa strana non è la fine del mondo e io sinceramente preferisco a livello di funzionalità la touchbar dei Mac perché almeno te la puoi configurare come ti pare questi sono o tasti funzione o tasti multimediali diciamo però non dà noia non dà fastidio è un di più e la macchina in sé è meravigliosa si merita un approfondimento importante anche se scalda anche se consuma perché dentro non è che c'è un processore a basso consumo c'è un 12 core nella mia versione è un mostro cioè è un estremo che si merita molte attenzioni quindi ci torneremo e l'ho comprato e l'ho pagato poco e non ho comprato solo lui ho comprato anche un XPS 17 edizione 2022 sapete cosa nella versione top di gamma da 4400 euro e l'ho già venduto a un ragazzo tra l'altro anche qua un ragazzo di voi uno di voi un ragazzo di voi e pensate che questo XPS 17 aveva aveva sentite il 9 64 giga di RAM io ho mai avuto in vita mia 64 giga di RAM neanche là ci sono 64 giga di RAM 2 tera di SSD lo schermo 4K al massimo la GTX più potente con 36 con 65 watt se non ricordo male comunque quella più potente un anno di garanzia premium che la garanzia premium Dell non solo ti cambiano la macchina se c'è un problema nei primi mesi ti rimandano un'altra oppure viene il tecnico a casa se c'è da fare una riparazione software insomma tanta roba copertura contro danni accidentali anche insomma una macchina ripeto 4400 euro che poi ho venduto a meno della metà no l'ho venduta alla metà l'ho venduta poco più della metà devo dire sì a questo ragazzo e io l'ho pagata a meno della metà un bel po' meno della metà e vabbè quindi ho preso quello ho preso questo questo anche l'ho pagato abbastanza poco e questo probabilmente lo venderò poi ho preso due macbook vi l'avevo già parlato la volta scorsa un 15 e un 13 entrambi pro entrambi touchbar uno del 2017 e uno del 2018 il primo quello con la tastiera turca vi ricordate ne avevo parlato aveva problemi alla batteria cioè aveva problemi allo stand by non si accendeva lo schermo dopo lo stand by quindi l'ho dovuto mandare indietro me l'hanno mandato un altro in sostituzione molto meglio perché aveva la tastiera inglese ed era ancora più nuovo che ho venduto pochi giorni fa anche quello era veramente immacolato con batteria aveva tipo 4 cicli una roba del genere e quanto sono belli ancora quei Mac cioè il design del macbook pro questo era il 15 6 con la touchbar del 2017 devo dire che era anche migliore del GPS 17 come metterci le mani sopra e scrivere e quel touchpad enorme quello schermo così grosso quel design wow è stato veramente penso dopo lui quello che a livello di design mi ha impressionato di più tornare su quel vederlo ancora nonostante i 5 anni che sono passati anche di più è ancora impressionante quella macchina e infatti l'ho venduta ad un ragazzo prendila perché è veramente nuova e ci fai ancora un sacco di roba questo è uno l'altro era il 13 Pro sempre Macbook con la testiera giapponese e qua vi devo raccontare un po' la storia perché anche questo praticamente nuovo con la pellicola sullo schermo e tutto il resto preciso che questi due Mac li ho potuti prendere a basso prezzo grazie a dei favori che un negozio di ricondizionati doveva farmi cioè l'ho preso a basso prezzo mentre i Dell li ho comprati diciamo e anche quello che vi dirò dopo li ho comprati diciamo sul libero mercato questo l'ho preso a basso prezzo perché è stato un favore che il negozio ha fatto a me ok e il Macbook da 13 ha la tastiera giapponese l'ho usato in friuli tutti quei giorni ed era veramente nuovo però aveva la tastiera quella vecchia del 2018 con 16 giga di RAM 512 SSD e tutto il resto però aveva questa tastiera che aveva iniziato a ripetere i tasti non è il classico problema ho contattato Apple confermato che in garanzia l'ho portato in garanzia appena sono tornato a Roma all'Apple Store e sì sì tutto ok ti cambiamo la tastiera non solo la tastiera mi hanno cambiato tutto il top ovviamente la tastiera la touch bar e la batteria e la batteria e quindi è tornato l'altro ieri nuovo no batteria a zero cicli tutto sopra nuovo già era nuovo sotto schermo praticamente un portatile nuovo tra l'altro mi hanno messo la tastiera quella la di generazione precedente però l'ultima revisione che secondo me era la migliore quella dei Macbook del 2019 secondo me quella era la migliore perché era comunque bassa ma non era come i primi aveva un click molto bello pronunciato un bel suono era la via di mezzo perfetta probabilmente hanno dovuto cambiare perché dopo tutti i casini che avevano successo insomma dovevano cambiare meccanismo però quella secondo me era molto migliore dell'attuale e l'ho venduto pochi giorni fa anche qui ad un ragazzo che mi ha contattato per prenderlo e sono contento perché è veramente veramente una bella macchina può dire ancora tanto quei Mac possono dire ancora tanto sono belli nel 99% dei casi conviene prendere un M1 anche modello base però quello aveva 16 giga di RAM aveva cioè dipende cosa ci devi fare se sei uno sviluppatore e hai bisogno del processore Intel hanno ancora molto 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 senso sono belli poi ho preso poi ho preso e non l'ho qua con me purtroppo un ThinkPad X1 di settima generazione pagato questo pochissimo pochissimo e questo aveva un problema ovvero ha un problema che devo risolvere la tastiera retroilluminata si illumina male di solito questi problemi vengono fuori quando c'è caldo sopra del liquido tant'è che ho chiesto al negoziante ho detto ok ma c'è caldo sopra del liquido non è che poi lo apro e mi trovo tutto appiccicoso queste cose qua la Coca Cola che va sulla scheda madre sulla batteria è tutta appiccicosa è una cosa terribile no 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 ti assicuro ti assicuro no 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 vabbè vabbè la fine l'ho pagato poco è arrivato effettivamente la tastiera funziona bene tutto c'è solo questa striscia di retroilluminazione che è l'unica accesa il resto è tutto spento però la macchina immacolata fuori avete presente i ThinkPad che di solito sono sempre un po' raschiati un po' rigati questo immacolato poi schermo 2K senza bleeding un'installazione di uno schermo così su un ThinkPad veramente rara di solito i modelli vecchi hanno sempre qualche leggera sommatura sbavaturina cavolettine c'è cose che noti perché ci fai caso perché poi una volta che è acceso è bellissimo quello no quello è meraviglioso quindi bellissimo va benissimo e adesso ho ordinato la tastiera italiana perché ho detto vabbè già che ci sono la cambio per quanto la tastiera è funzionante è tutto però la tastiera spagnola ho detto vabbè ce la mettiamo italiana così anche retroilluminata con 35 euro l'ho trovata su ebay usata e arriverà e quest'estate lo farò e dovrò smontare smontare tutto il computer praticamente per cambiare la tastiera perché lì devi togliere il fondo la batteria la scheda madre e vabbè ma poi sotto devi togliere 62 viti perché quelle tastiere sono ancorate come quelle dei Mac con 62 viti 62 credo 64 sono viti da 0,3 mm se non ricordo male ci vuole una vita ti devi metterli un pomeriggio a togliere tutte queste viti e poi rimetterle e poi uno dice è stabile e ci credo ci mancherebbe che si muove che non flat e sapete cosa questo ThinkPad probabilmente è quello che mi terrò probabilmente è la macchina che mi terrò perché lui è sprecato per me e poi non voglio stare in paranoia attento a non toccarlo non batterlo perché questo per quanto mi sembra molto resistente molto bello è un blocco di metallo un blocco di potenza questo e poi se ci posso fare un piccolo profitto ce lo faccio e mi diverto così che devo fare poi penso sempre perché quando faccio i piccoli profitti su queste cose ho qualcosina da investire in cavolate quando io vendo ve ne ho parlato tempo fa quando io vendo diciamo libri a che ci faccio 5 euro di profitto per dire su eBay vedi un libro a 10 euro alla fine ti restano 5 euro pulite tra quello che l'hai pagato le spedizioni e qualcuno mi chiede ma perché chi te lo fa fare è vero è vero però io penso sempre a quei 5 euro che ci posso comprare una cavolata mi devo comprare qualcosa che normalmente non comprerei e quindi magari mi compro un altro libro di una cosetta o questo se ci faccio 100 euro di guadagno sono 100 euro in cui ci posso comprare posso alimentare il mio megapacco dal Giappone di giochi a 1 euro per il Saturn vabbè per dire il ThinkPad lo terrò probabilmente sapete non lo so vediamo come passa quest'estate vediamo come passa quest'estate e poi a settembre inizio settembre fine agosto ci penserò tra l'altro mi è anche arrivato il ThinkBook 13X che mi ha mandato Lenovo insieme a un pacco di accessori che devo provare che sono tutti belli cuffie microfono da banco un battery bank enorme per i portatili la tastiera ergo la tastiera Lenovo mi ha mandato la tastiera ergo quella split con il touchpad di sughero quando l'ho visto ho detto cavolo sembra la marea ve l'ho anche fatta vedere una volta su Telegram perché la voglio provare è una tastiera a membrano ovviamente però mi sembra voglio provare la sensazione di una tastiera ergo fatta in quel modo di marca e poi approcciarmi alla marea insomma volevo provarla fare l'esperienza con quella tastiera e quindi proverò questo ThinkBook 13X con questi accessori è bellissimo il ThinkBook 13X raffinatissimo con il luogo in rilievo questa superficie setata sopra ha questa superficie sul palm rest che sembra non mi viene da dire non lo so non lo so cosa sembra è leggermente setosa setata un po' morbida un po' gommosa un po' liscia un po' velluto grigia anche lei è davvero davvero bello quel ThinkBook cavolo l'ho aperto ieri un attimo l'ho messo sotto carica e bello poi senza touch devo provarlo lo metterò insieme a tutto ci farò la recensione insieme a tutto e via dicendo basta anche oggi avrò un po' verrà fuori un video lungo come tutti i vlog va bene guardate cosa ho qui dei cd dei cd vergini vedete che si trovano a 2 lire adesso se volete comprare dei cd la gente li regala no perché ho ho fatto una modifica al Saturn per far girare i giochi masterizzati per dire semplicemente per provare quello che volevo provare prima di comprarli ci sono dei giochi che costano un'infinità e quindi spendere 200 euro per prendere Radiant Silver Gun quando ti va bene poi magari non sai come ah no vabbè Radiant Silver Gun è un capolavoro vabbè però ci sono tanti altri giochi che magari dici vabbè lo provo se poi mi piace mi compro la versione fisica vera perché poi andando ad approfondire la parte tecnica del gioco e lo sviluppo software c'è sempre dietro tanta roba da sapere che magari ti fa apprezzare di più il gioco stesso e quindi ho preso dei cd per masterizzarli e ho anche montato il lettore cd il masterizzatore sul portale sul fisso e quindi ogni tanto vado là e masterizzo un cd con cd da linux da riga di comando è divertente divertente ah e poi ve l'ho fatto vedere su instagram maledizione non ho pensato a organizzarmi per farvelo vedere questo è un porta floppy guardate che e guardate che floppy sono questo è un porta floppy bellissimo guardate che linee e questi sono dei floppy del mac adesso ne ho preso uno a caso ma quando ero in Friuli ho fatto amicizia con un con con un ragazzo con un uomo parlando di corsa di roba sportiva è venuto fuori visto che il sufficio l'ha circondato da vecchi mac ho detto ma tutti questi mac sono un caso mi ha detto no io colleziono questa roba ha iniziato a tirar fuori ibook ha iniziato a tirar fuori i macintosh classic impazzivo cioè immaginate io vado là per caso incontro questa persona dell'organizzazione locale che mi dice guarda vai a correre qua vai a correre là e viene fuori che questo è un appassionato di mac che ha roba impazzivo giorni dopo questo mi chiama e mi fa guarda devo svuotare il magazzino in una cantina vieniti a prendere della roba perché la butto ho detto che come la porta a Roma vieni a prendere la roba sono andato là con la macchina ho caricato un po' di cosette due stampanti un sacco di floppy un macintosh classic funzionante con tastiera mouse e tutto il resto un'altra tastiera insomma ho caricato un po' di roba nella Yaris poi su Twitter vi ho anche scritto consigli per portare tutto a Roma senza farlo ruotare alla mia ragazza perché abbiamo la macchina piena e io ho questi pc dentro dove li infilo e adesso li ho portati a Roma devo fare forse il retro bright la tastiera perché però tutto funziona e così ho alimentato la mia collezione di macintosh classic veri funzionanti presi da gente che ce l'aveva comprata a tempi cioè unico proprietario e tra l'altro in questo magazzino che stava diciamo liberando aveva tanta altra roba non ho preso poi perché veramente non sapevo come portarlo giù però ad avere in un furgone o a stare là a stare là uno si porta dietro tutto pensate un po' io vado in vacanza in questo posto meraviglioso trovo tutta la roba meravigliosa e in più i mac i mac vecchi no? vabbè vabbè è tutto grazie di essere arrivati fin qua mi raccomando passate una buona estate leggete ascoltate tanta musica pensate a quello che volete fare quest'inverno l'estate è sempre anche un buon momento per studiare studiare intendo approfondire andare a cercare online le cose che uno vuole fare a livello informatico linux siti e tutto quanto podcast no? uno si 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 informa studia si può chiamare studio si informa bene e poi a settembre parte fiammante ripartiremo fiammanti beh ciao buona estate ancora ripartiremo fiammante ben volete che oe